servizio di Fabrizio Feo. Fantasmi che emergono da un passato buio, da molti dimenticato, ad altri, i più giovani, del tutto sconosciuto, eppure drammatico, terribile per tante famiglie di servitori dello Stato, uomini delle istituzioni, cittadini, sindacalisti e lavoratori, rimasti feriti o uccisi. Un momento lungo, quasi un decennio, tra gli anni 70 e la prima metà degli anni 80, in cui il rischio per le istituzioni repubblicane fu altissimo. Questo rappresentano i nomi di Roberta Cappelli, Marina Petrelli, Sergio Tonaghi, brigatisti rossi, poi Narciso Manenti, esponente dei nucleoarmati territoriali, sottrattisi alla condanna all'ergastolo, fuggendo in Francia. Come altri due brigatisti, Giovanni Alimonti ed Enzo Calvitti, e il militante di lotta continua, Giorgio Pietro Stefani, che devono scontare invece condanne tra gli 11 e i 18 anni di carcere. Le ombre rosse, così sono state chiamate, di un dossier dei servizi antiterrorismo e del governo italiano, che in realtà elenca anche altri nomi di terroristi o ex-terroristi, con a fianco la scritta da catturare. In Francia e non solo. Scorrere gli atti dei processi a carico di ognuno di loro vuol dire imbattersi in una lunga serie di omicidi e di ferimenti, tanti poliziotti e carabinieri, ma anche sequestri, in particolare di magistrati, sottoposti ai cosiddetti processi proletari e poi rapine per autofinanziamento e assalti a sede di partiti politici e carceri. La prova generale di quella che in particolare le Brigate Rosse avevano definito lotta armata, il tentativo di andare oltre gli agguati e le azioni da commando, trascinando il paese nella guerra civile. Un tentativo criminale che per fortuna non riuscì, al prezzo di sacrifici e di lutti purtroppo dimenticati o spesso rimasti sulle lapidi, che pure, per quanto in ritardo, impongono il rispetto delle sentenze e che le condanne vengano scontate.